Con Giovanni Galli, grande ex milanista, parliamo della squadra rossonera. Il club di Berlusconi ieri ha praticamente concluso per Saponara. Ti chiedo se ti piace, questo giocatore prosegue la linea verde della società? Credo perlomeno quello che stanno facendo, che hanno iniziato a fare quest'anno, sia una politica giusta, una politica di ridimensionamento e di ricostruzione. La ricostruzione passa inevitabilmente attraverso i giovani e credo che non debbano esserci magari delle richieste all'allenatore o a chi sarà, non so, negli anni prossimi, ma quello di dover ottenere dei risultati perché logicamente quando si riparte con i giovani bisogna essere consapevoli che per un paio d'anni si può soffrire e magari non si può ambire né a vincere lo scudetto e magari neanche arrivare in Champions League. Però condivido e sposo appieno questa linea, stanno andando a prendere giocatori bravi, giocatori importanti. Coppa Italia, abbiamo visto l'altra sera, hanno giocato con Bojan davanti, Nyang e Sharawi. Insomma, voglio dire, una linea d'attacco con una media di 19 anni, perciò credo che sia importante come messaggio. Detto questo, l'arrivo di Saponara, credo che sia un altro acquisto importante perché questo dall'anno scorso non ha fatto altro che crescere questo ragazzo. Si merita, si merita questa opportunità, si merita questa chance. Anche a lui non bisogna chiedergli tutto e subito e magari avere un po' di pazienza, così come è successo a Sharawi, che l'anno scorso magari è arrivato, è entrato e ha dovuto adattarsi a quello che è un campionato, a quelle che sono le esigenze di un club come il Milan. Parlando sempre del futuro, le recenti parole di Berlusconi su Allegri ti fanno pensare che l'addio a fine stagione sarà praticamente scontato? Ma questo non lo so, è certo che certe dichiarazioni ti portano a pensare questo. Sai, quando si riparte, si riparte da una ricostruzione nuova, bisogna capire se quell'allenatore che hai a disposizione è un allenatore sul quale puoi costruire un futuro o meno. Se non c'è la fiducia è giusto che poi a fine stagione le strade si separino. insomma, ma è giusto per l'allenatore ed è giusto per la società. Insomma, rimanere sempre in una situazione così di grande imbarazzo credo che non giovi a nessuno. A tuo parere per questa stagione ci sono ancora le possibilità per salvare l'annato da parte del Milan? Beh, sai, adesso è arrivato a 30 punti. Le dirette inseguitrici, cioè lui insegue a 5 punti, si inizia il girone di ritorno. Beh, tutto è possibile, insomma. Ecco, non credo che oggi si possa dire che c'è un divario. Loro sono stati bravi a recuperare, sono stati bravi a rifarsi sotto, grazie anche magari a qualche frenata che hanno fatto quelle davanti. Se quelle davanti frenano, tu apri e dai la possibilità a tutti di rientrare. Se viaggiano a una media regolare è molto più difficile. Ci sono due squadre, secondo me, oggi che possono essere considerate fuori dalla portata. C'è la Juventus, anche se domenica scorsa ha perso contro la Samp, e il Napoli, che io continuo a individuare come squadra tosta, come squadra in tutti i settori. Poi c'è l'imprevedibilità della Roma, c'è una Lazio che piano piano sta ritrovando degli equilibri, è autostima. La Fiorentina, che è cresciuta molto in questo girone d'andata, adesso ci si aspetta tutti, la riconferma. Un'ultimissima domanda proprio del mercato di gennaio del Milan. Berlusconi aveva parlato di destro, probabilmente la Roma non lo scelerà, però è la tipologia di attaccante giusto per il Milan? Si torna al discorso di prima. Tanto c'è da capire se la squadra la fa la società e poi va a prendere l'allenatore, o se c'è già un'idea di quello che può essere il gioco del futuro, e allora magari prendi i giocatori compatibili con quello che sarà il futuro. A proposito dell'allenatore, ti interrompo, scusami, ma qualcuno ha avanzato l'ipotesi di un Donadoni che potrebbe sedersi sulla panchina rossonera, anche perché Saponara era stato proprio richiesto dal Parma di Donadoni, insomma ci sono delle indicazioni che porterebbero a questo tecnico, che cosa ne pensi? Che sta facendo bene, ha avuto magari degli intoppi nella sua carriera, Genova, lo stesso, l'ultima, a Napoli, che magari li potevano aver frenato la sua carriera. Lui è un grande lavoratore, è uno di poche parole, è uno che gli piace stare sul campo, ha un grande staff tecnico che lo aiuta, e credo che quest'anno stiano facendo veramente un ottimo campionato. Una squadra normalissima, ha già fatto 29 punti, e lì a ridosso credo che sia andato oltre le più rose aspettative. Perciò io l'auguro che gli faccio a Roberto è quello di poter tornare alla guida, magari così con un po' più di esperienza, alla guida di un club importante. Grazie.